buonasera buonasera tutte quante buonasera a tutti siamo ancora qua come ogni mercoledì con le dirette rencalic il progetto di questa sera come avete visto dalle varie presentazioni e questa leggiadra farfalla che realizzeremo insieme e di cui potrete constatare la semplicità nell'esecuzione al momento come al solito io non non riesco a vedere bene se scrivete qualche commento fra qualche istante sarò attrezzata in tal senso però vabbè intanto vi aspetto vi do il benvenuto come come sempre nel gruppo rencalic idee che prima di partire vi invito comunque a seguire per poter essere aggiornate circa tutte le proposte e le novità dell'azienda rencalic abbiamo diversi canali web lo dico per chi magari si approccia per la prima volta alle nostre dirette o ai nostri momenti quindi abbiamo diversi canali web quello in cui siete in questo momento collegate e da cui voi potrete vedere questa diretta e anche tutte le dirette che sono state fatte in passato e che faremo in futuro abbiamo una pagina facebook allegato al tutorial voi troverete i cartamodelli li trovate c'è una piccola spiegazione che ha fatto Rita che vi spiega come fare a raggiungerli in generale che ha già dimestichezza c'è un link sotto al video questo sul canale youtube veniamo a noi quindi intanto aspetto un attimino ancora che vi colleghiate vi aspetto come sapete noi abbiamo qualche frazione di secondo di differita fra quello che io sto dicendo e quello che invece poi vedete e che poi io posso leggere anche dall'altro strumento quindi c'è qualche momento di differita saluto tutte non vi saluto ad personam come al solito però vabbè iniziamo a parlare di questa nostra farfallina allora data la stagione la farfallina è un soggetto che ci è piaciuto che ci ha fatto piacere proporvi nella sua semplicità di esecuzione inizio quella di questa sera in questo caso io ho usato del filo metallico come vedrete del nostro tubolare crocciè giallo le copelle per fare queste rose selvatiche rosso corallo i pistilli gialli ed i fiorellini all'interno per fare i pistilli erano in color erano ice i fiorellini prefustellati questa sera utilizzerò gli stessi prodotti, ma in colore diverso, dandovi una versione, perché no, anche nascita. Adesso partiamo subito a lavorare. Allora, un attimo di pazienza che mi organizzo. Dunque, prima di tutto avrete bisogno del cartamodello. Il cartamodello, come vi ho detto, voi lo troverete allegato a questo video trasposto nel canale YouTube Rencalic Bologna. Si tratta di, alla destra e alla sinistra, che voi stamperete in formato A4, vedete? Praticamente sono due fogli che io ho poi unito con dello scotch di carta, in modo da avere tutta la forma della nostra farfalla stampata sul cartamodello. Che cosa vado ad utilizzare per realizzare la farfalla? Questa è la prima cosa che facciamo. Allora, nel mio caso io ho utilizzato questo filo metallico color marrone. Lui è il filo di alluminio animato, che noi usiamo spessissimo in tutti i nostri progetti dove abbiamo bisogno di un filo metallico un po' più robusto, ma al tempo stesso morbido. Ed ho utilizzato questo tipo di nastro tubulare crochet, e utilizzerò questa sera questo nostro nastro crochet invece azzurro. Per quello vi dicevo che potrebbe essere un progetto la nostra farfalla che diventa anche un simpatico progetto per una nascita, perché no? Di questo tubulare crochet noi abbiamo cinque o sei colori, adesso non ricordo bene cinque mi pare, quindi abbiamo l'azzurro, il bianco, tutti, così come sempre, sono cinque. Se qualcuno non conosce i nostri prodotti questa è l'occasione. Nastro tubulare crochet è questo qua, ce l'abbiamo bianco, giallo, salvia, azzurro e rosa. Questa sera, come vi dicevo, parlavo prima. Ora io non riesco a farvelo vedere tutto, così che magari capite, ok? E ad uno dei due capi, ma già anche a tutte due capi possiamo fare una soletta, aspettate, una soletta in questo modo, cioè con una pinza pieghiamo con le mie parole le vostre domande. Allora, un attimo che devo fare una cosa, ok? facciamo così, devo cambiare canale, ok? Allora, ho un problema con una luce, perdonate che qui sono sempre quelle del bello della diretta e ci siamo, perché sennò rimaniamo al buio. Quindi, come vi ho detto, buonasera a tutti, tubolare, 2 metri e 40 di filo metallico, invece 2 metri di filo di nastro crochet. Come vedete l'ho rivestito tutto, l'ho già piegato a metà quello che è il nostro filo metallico rivestito con il tubolare. Agli estremi del tubolare andrò a strozzare con del filo di alluminio l'inizio e la fine ottile che mi serve per fare questo tipo di operazione, che ci servirà ancora dopo nella costruzione della farfalla. A tutte e due i capi, lasciando scoperto una porzione di filo metallico. Dopo di avere la colla caldo pronta, andrò a fissare ulteriormente con un puntino di colla caldo in posizione questo nastro crochet che è andato a rivestire il nostro filo di alluminio. Buonasera a tutte, spero che vediate bene le immagini, ecco qui per fissarli ancora meglio. Allora, come vi ho detto, il cartamodello che voi vedete poggiato sul tavolo lo potrete anche sul nostro canale YouTube Rencalic Bologna. Bene, ora tutta la parte di filo metallico che rimane scoperta, non importa che siano precise in modo millimetrico, queste che saranno le antenne. Ok. Che ci sia qualche problema di connessione, datemi un riscontro. Voi mi vedete, io vi vedo, ogni tanto vedo delle interruzioni, scusate, nel caso non è colpa nostra. Io dico sempre, ci sono delle problematiche di connessione quando si... Allora, spero che la cosa non si dilunga. Sì, la diretta rimane assolutamente salvata, sia sulla pagina questo nastro è un nastro da fioristica, la volita gutta perca, in questo caso la utilizzo, che in catalogo ce l'abbiamo di diversi colori, la utilizzo marrone perché devono essere le ali della nostra farfallina, no, pardon, le ali, le antennine. In realtà io avevo comunque, scusate, questa cosa tecnica. Eccomi qua. Mi spiace che ci sia questo inconveniente questa sera, ma... Tendo un attimo faccio anche quest'altra cosa... Mi ero scollegata appositamente dal wifi proprio per non avere questo problema e spero che il problema non permanga per quanto riguarda il resto del video. Cercherò di essere veloce in modo da non annoiarvi troppo con questo inconveniente anche tecnico e che termini l'inconveniente tecnico. Come dico sempre, bello della diretta e anche il fatto che comunque ci dobbiamo affidare al web. Ci sono temporali, ci siamo al tempo, ci sono tutte queste cose che purtroppo non ci agevolano per la continuità della connessione. Generalmente non abbiamo avuto problemi. Speriamo che non sia oggi la prima volta che ci capita questa cosa qui in maniera troppo noiosa. Bene, come avete visto ho rivestito di gutta perca gli ultimi due pezzi di filo metallico che diventeranno le nostre antennine della nostra farfalla. Ora, vediamo se riesco a mostrarvelo nel migliore dei modi. Avendo il cartamodello, spero che lo leggiate dal tavolo, andiamo a piegare a metà, più o meno precisa, quello che è la lunghezza del filo metallico rivestito di tubolare. E partiamo dalla parte bassa della nostra farfalla. Vedete che è stato piegato piuttosto in maniera decisa e partiamo dalla parte bassa. Iniziamo a formare semplicemente seguendo il modello del cartamodello quello che è la forma proposta per la farfallina. Questo filo metallico si piega molto agevolmente, vedete che lo modello con estrema facilità e lo possiamo modellare e rimodellare finché non ci riteniamo soddisfatte. Dopodiché piego nuovamente, così, vedete questo è l'inizio e questa è la piegatura per l'altra per l'ala e vado nuovamente seguendo la forma disegnata sul nostro cartamodello a modellare la forma della farfalla. Questo filo è molto molto utile, rivestito in questo modo mi permette di fare un sacco di lavoretti dove volete modellare qualsiasi cosa, può essere una scritta, può essere una forma qualsiasi altra, quella di un fiore. Allora, come vedete, questa mezza farfalla è già pronta. Quello che avanza lo piego verso l'alto in questo modo. E ci siamo. Allora, giunte a questo punto, queste tre curve con un pezzo di filo zincato vado a legarli in posizione in modo che non si muovano più o perlomeno non troppo. Quindi inserisco il filo qua, poi lo inserisco sopra. Adesso io l'ho preso in abbondanza. Poi lo inserisco dentro la parte mediana. Questa è una sequenza che mi sto inventando io in questo momento. Quindi voi potete seguire questa legatura, la sequenza che desiderate. E andiamo magari a farlo un paio di volte questo giro. Così vado dentro qui con il mio filo metallico. In modo da fissare in posizione queste piegature che noi abbiamo già fatto di metà del nostro filo di alluminio animato. Poi lo affrancheremo ulteriormente con della colla a caldo nel momento in cui andremo anche a creare la composizione. Quindi così. Prendo il mio filo così e me lo ritorco in maniera da avere una legatura il più possibile fissa. Vedete che mezza farfalla è già realizzata. Allora, lascio qui a disposizione questo filo che ho tagliato un po' più lungo. Perché adesso vado a modellare l'altra mezza. Avete visto la semplicità? L'importante, a seconda della forma che voi volete andare a realizzare, è avere un cartamodello di base che vi permette di seguire una forma prestabilita che volete realizzare. In questo modo. Il filo è veramente molto morbido. Allora, ciao a tutte quelle che sono arrivate ora. Allora, come sempre vi dico, condividete la nostra diretta anche sulle vostre pagine in modo che anche i vostri amici, conoscenti, compagni di merende, io dico che sono creative come voi, possano vedere quello che stiamo realizzando insieme. Allora, seconda ala, adesso qui ho su questo tavolo, ragazzi dovete perdonarmi perché non ho l'ampiezza per potervi mostrare tutto il filo che cammina, ma tanto lo state vedendo bene immagino. Come vedete, questo filo non ha bisogno di niente di particolare e lo andiamo a rivestire con il nostro tubolare senza particolari difficoltà. Viene rivestito, punto. Ok, arriviamo in fondo e ripieghiamo anche qui la seconda antennina. Perfetto. Allora, mi verranno le antennine un po' simmetriche, va bene lo stesso perché la simpatica, la farfalla, resterà più simpatica. Ora, posso togliere il cartamodello. Lego nuovamente con il filo metallico anche questa seconda parte di intreccio che abbiamo creato per realizzare la forma della nostra farfalla. Scusate che per il momento con le mani nascondo un attimo quello che è l'intreccio, poi ve lo mostro meglio appena ho terminato. Sempre con questo filo zincato vado a completare questa legatura. Un pezzettino lo tengo per andare a stringere solo un pochino questa parte alta dove ci sono neanche le antennine. Sono quattro fili che vanno verso l'alto. In realtà, come avete visto, pochi minuti ed è molto molto semplice da realizzare. Bene, la nostra farfalla è pronta. Vedete com'è stata intrecciata anche grossolanamente. Non abbiamo dei lavori strani, particolari o tecniche particolari. L'importante è rivestire bene con il tubolare crochet tutto il nostro filo metallico. Vi ripeto, sono due metri e quaranta di filo metallico e due metri invece di tubolare. Lasciamo scoperti gli estremi che andiamo invece a rivestire con la gutta perca marrone. La nostra farfalla è già pronta. Possiamo già agli estremi qua, vedete che lo posso fare tranquillamente con le mani o mi aiuto con una pinza se preferite, creare quello che sono i riccioletti delle antennine. Queste antennine saranno sempre flessibili, quindi le potrete poi modificare tutte le volte che lo desiderate o come desiderate. Guardando poi il manufatto terminato decidete come posizionarle, se tenerle così dritte oppure dargli delle piccole curvature così simpatiche. Questo filo metallico ci permette di fare un sacco di modifiche anche in itinere. Essendo tra l'altro rivestito non avremo nessun effetto di filo di ferro storto che invece altri fili metallici più rigidi ci darebbero involontariamente. Bene, il nostro supporto di base praticamente è pronto. E adesso passiamo direttamente a fare il decoro. Per il decoro di questa farfalla, anzi un attimo, prima ci metto un pochino di colla a caldo qua sotto in alcuni punti per affrancare ulteriormente quello che è l'intreccio. Come vedete non serve mettere chissà che cosa, è giusto per avere un punto di riferimento più stabile dove andremo ad applicare il nostro decoro. Farfalla realizzata, l'accantono. Per chi non l'ha visto fare, vi ricordo che potete rivedere tutto quanto, comprese le piccole interruzioni per la connessione ballerina in differita, sempre su questo canale, sulla nostra pagina. Se avete qualche domanda scrivete che le nostre... Allora, Cristina Borghesi che dice che non riesce a condividere, non importa per il momento quando sarà terminato e potrai condividere poi la differita. Magari non lo condividi in questo istante, non vedranno la diretta, le tue amiche, ma lo vedranno poi se ti è piaciuto quello che facciamo questa sera in differita. Bene, io come vedete ho già realizzato alcuni fiori, questo per accelerare il lavoro, però vi voglio mostrare invece come si realizzano queste rose canine. Volendo fare una tinta diversa da quella della campionatura e quindi mostrarvi dei colori anche diversi e una possibilità diversa a livello creativo, ho utilizzato questa volta l'ecopelle bianca. Lo stampo che andiamo a utilizzare questa sera fa parte del kit Dallias. Nel kit Dallias ci sono diversi stampi, quello che utilizzo questa sera è questa corolla che spero vediate bene, che è una corolla a 5 petali, che mi darà questo tipo di fiore letto. Per ogni fiore in realtà, essendo una rosa selvatica, una rosa canina, utilizzerò una sola corolla. Vi mostro, spero più velocemente possibile, come stampare una corolla. Lo so che può essere ripetitivo per le nostre amiche che ci seguono sempre, ma noi dobbiamo ovviamente mostrarvi sempre come si stampa una corolla. La nostra ecopelle è termoformabile e quindi ci permette di utilizzare, come altri nostri meravigliosi materiali, e cioè il velluto termoformabile, il tessuto primetta altrettanto termoformabile, eccetera eccetera, fino al classico fommi, ci permette di realizzare delle corolle che hanno già una forma modellata, senza particolari difficoltà di avere cartamodelli o cose di questo genere. Allora, io ho attaccato il ferro da stiro, sì, il ferro da stiro ben caldo, ho posizionato sul tavolo il mio solito stelo da stiro, che utilizzerò per scaldare quello che è il nostro ritaglio di tessuto, in questo caso ecopelle. L'ecopelle, questa volta, ho usato il bianco. Il pezzettino di ecopelle, come degli altri prodotti termoformabili della nostra gamma, va tagliato leggermente più grande dello stampo, come vedete, e prepariamo lo stampo pronto per poter stampare la corolla, così noi la dobbiamo vedere, spero che voi la vediate bene attraverso lo schermo, la dobbiamo stampare da questo lato, cioè l'ecopelle deve essere concava, in questo caso io direi, quindi con il petalo scavato verso l'interno ed il bordo rialzato. Quindi posizioneremo lo stampo in maniera da avere questo tipo di risultato. Non abbiate paura, se per caso vi accorgete di aver sbagliato, perché potete nuovamente riscaldare l'ecopelle, non 50 volte, ma una volta lo potete fare per poter ottenere la corolla stampata dal lato che volete voi. In questo caso io ho preparato l'altra parte dello stampo, perché lavorerò vedendo il rovescio della pelle. Quindi rovescio, rovescio, stampo, automaticamente avrò la corolla come desidero io. Se temete di sbagliare, provate con del fommi, provate con qualcos'altro. Ecco, però come vi dicevo, se per caso una corolla non vi viene stampata dal lato giusto, non dovete far altro che scaldarla nuovamente e quindi ristamparla. Questi teli da stiro antiaderente che tutti i nostri rivenditori hanno, li potete trovare ovviamente dai nostri rivenditori. Hanno un sacco di caratteristiche di pregio, e cioè è un foglio di teflon di una bella dimensione che vi permette di scaldare qualsiasi materiale senza rovinarlo, di restare sopra anche un attimo in più, senza rischiare, a meno che non facciate delle stupidaggini come a volte capita, ecco, di colare addirittura il prodotto, e soprattutto di proteggere. Non si sporcano, sono eterni. Vedete, ho inserito velocemente il pezzo molto molto caldo fra le due parti dello stampo, e questo vi permetterà di avere una corollina molto graziosa stampata con anche delle venature interne al petalo abbastanza evidenti. Questa non è una corolla molto scavata come potrebbero essere quelle di alcuni stampi nostri tipo Camellia o altri addirittura che fanno parte di questo kit che è quello che sto usando adesso, che è il Dahlia, vedete, questo è il kit che sto usando stasera e ci sono cinque tipi di stampi diversi, due più grandi, i sepali, una grande foglia e questa corollina che sto usando io adesso. Alcuni stampi sono più bombati, quindi è più immediato l'effetto di brava Simonetta, che l'hai ordinato questo pomeriggio. Et voilà, vediamo se ho stampato giusto, no, non era abbastanza caldo, probabilmente la fretta del mio lavoro, pardon. Come vedete, ecco, vi faccio vedere proprio fisicamente che io adesso vado a ristampare, perché non ho stampato a sufficienza, avendo il ferro da stiro probabilmente non abbastanza caldo. Vediamo un attimo se è successo qualche inciviente al ferro, sì. Allora, facciamo questa cosa. Stasera la tecnologia non mi aiuta, eh. Voilà. Perfetto. Allora, ancora una frazione di secondo, scusate, come vi dicevo, se il ferro non è sufficientemente caldo, non si riesce a modellare. Quindi, se come in questo caso, vedete, non ha stampato a dovere, eh, io lo posso tranquillamente rifare. Non ha stampato a dovere perché la piastra non era abbastanza calda per fare l'effetto che volevamo noi. Allora, andiamo a scaldare nuovamente. Vediamo se questa volta mi darà retta il ferro da stiro. O se abbiamo una problematica tecnologica anche da questa parte. Vediamo se ce la facciamo. Altrimenti, comunque, avevo già preparato delle altre corolle pronte, eh. E temperatura massima, esatto. Che però ce la deve dare la temperatura massima. Altrimenti, eccola. Secondo me questa volta ce l'aveva la temperatura massima. Così dicono le mie mani. Sì, sì. Quindi, attendiamo solo un attimo. che si raffreddi. Nello stampo metto già via il ferro da stiro perché non ci serve. Eccola. Adesso abbiamo una bella corolla stampata a dovere. Come vedete, addirittura anche, mi auguro che si veda, perfino le venature interne allo stampo vengono riportati sulla ecopelle. Togliamo tutto questo ambaradan come al solito. Dopodiché ciascuna corolla deve essere ritagliata a regola d'arte. Quindi andremo in profondità fra un petalo e l'altro e andiamo a ritagliare tutta la corolla. Questi fiori sono molto semplici proprio perché, come vi dicevo, se comunque ben modellati abbiamo bisogno una sola corolla per ogni fiore e utilizzeremo quest'ultima corolla che ho stampato divisa per creare due boccioli. quindi adesso vi mostro come la ritaglio qualora mi servisse tutta intera in questo modo. Poi però questa corolla l'andrò a dividere in due parti. Una parte avrà due petali e l'altra parte avrà tre petali. Sempre noi dobbiamo dividere i petali fra loro in maniera da avere la possibilità di modellare al meglio il fiore. ecco qua quindi botanica fiorellini e pistilli vi mostro sia la realizzazione del fiore più grande questi che vedete ho già realizzato in precedenza utilizzando i nostri fiorellini questi già prefustellati sempre in ecopelle per creare il pistillo centrale il pistillo centrale come di consueto chi ha già visto i nostri tutorial l'ha già visto diverse volte ma lo faccio sempre rivedere in questo caso userò sei pistilli testa doppia bianchi nello specifico mentre per la versione che vi abbiamo mostrato nelle fotografie di presentazione avevo utilizzato dei pistilli gialli raccolgo il mazzetto e con uno dei pistilli leggo gli altri pistilli al centro eccoci qua poi pieghiamo il nostro mazzolino a metà ed avremo un bel gruppetto di pistilli prenderò questa volta una margherita questi sono i nostri fiorellini in ecopelle prefustellati ed utilizzo questa volta per questo tipo di operazione i pistilli cielo pardon i fiorellini cielo i nostri fiorellini in ecopelle ci sono ben in 12 colori e potete solo sbizzarrirvi nella creatività per fare un sacco di cose ho visto che già li conoscete che comunque li avete utilizzati per fare tante cose molto molto belle e proseguite così in questo caso sto utilizzando questi un po' più grandini mentre nella campionatura avevo usato quelli un po' più piccini questo attiene al vostro gusto in questo caso io volevo voglio che si veda di più la tinta del pistillo il colore del pistillo per andarlo a tematizzare con la farfalla che è stata rivestita in azzurro piego la corolla grande una corolla e faccio un bel taglietto al centro in modo da poterla poter inserire il nostro pistillo la stessa cosa faccio allargando un pochino il buco già preesistente buonasera Emanuela mettetevi legate il fazzoletto quando dovete venire in diretta a trovarmi ecco qua quindi 1, 2, 3 sono gli elementi che ci servono per fare questo fiorellino che veramente è molto semplice da fare ma che poi voi potete applicare a prescindere da questo progetto in tante tante applicazioni simpatiche e carine perché è un fiore delicato al tempo stesso in base all'abbinamento dei colori che andrete a realizzare possono venire delle cose veramente interessanti a livello compositivo allora ho inserito il mazzetto di pistilli all'interno del nostro fiorellino vado a mettere questa volta uso la colla il nostro adesivo ciano acrilato ultimamente ve lo stiamo mostrando spesso perché è una necessità per poter incollare i nostri fiorellini realizzati in ecopelle abbiamo la necessità di utilizzare questo tipo di collante l'adesivo ciano acrilato ne basta proprio qualche goccia e in questo caso come vedete piano piano perché ne scende molto soprattutto quando il barattolo è stato appena aperto e quindi c'è molto prodotto all'interno e vado a raccogliere i miei petali della margherita intorno ai pistilli al mazzetto di pistilli li strizzo qua dietro e ho creato un pistillino colorato un po' più importante e tematizzato a quello che sono i colori nuovamente vado ad inserire il pistillo così realizzato nel foro che abbiamo fatto nella corolla come vedete questa è una corolla che rimane comunque un po' aperta per dargli un movimento di coppetta un po' più chiuso cosa vado a fare metto ad alcuni di questi petali un goccino piccolo piccolo alla base e lo stringo a raviolino non tutti due o tre petali vanno realizzati in questo modo vedete basta solo qualche istante affinché la colla faccia presa ed è anche la comodità di questo adesivo oceano acrilato l'immediatezza della realizzazione perché comunque fa presa immediatamente un goccino e chiudo il mio raviolino uno due e magari un terzo petalo lo vado a chiudere un pochino così allora attendiamo solo un attimo che faccia presa e poi facciamo anche questo qua gli altri li possiamo lasciare liberi oppure possiamo raccogliere la corolla in modo tradizionale cioè avvicinando soltanto un petalo all'altro come in questo caso ed incollando i vari petali fra loro in modo che la corolla si raccolga e si chiuda un pochino di più in questo caso vedete la corolla rimane un po' più aperta metto un pochino di colla anche alla base del pistillo in modo da fissarlo all'interno del fiore facciamo così che tanto la colla fa presa anche se non la strizzo e dal nostro ramo di botanica dossinia vado questo è prato è la dossinia prato vado a vedete questo ramo che in realtà è un ramo ricchissimo vado a prendere un ciuffetto di foglie e questa volta con la colla caldo li vado ad inserire così non è necessario infilare il pistillo lì all'interno perché poi saranno tutti i fiori che verranno incollati direttamente sulla ghirlanda quindi abbiamo bisogno solo che venga avvolta la corolla da queste foglie un puntino di colla caldo e abbiamo ottenuto quello che volevamo e cioè una rosa con le sue relative foglioline già pronta vedete ok dopo per posizionare al meglio i petali come vi dicevo si possono incollare l'un l'altro sempre con un puntino di colla ma in ogni caso questo fiore è già realizzato come vi dicevo quest'altra corolla invece la vado a dividere prendo questa volta un pezzetto di barretta metallica verde questo è abbastanza lungo quindi lo divido a metà allora così faccio una piccola asolina che mi permette di avere un piccolo appiglio alla base prendo le mie due corolle questa volta vado ad incollare sul retro nella parte vellutata del petalo e lo posso fare con la colla caldo tranquillamente e chiudo il mio piccolo cono con il primo petalo poi chiuderò l'altro cono avvolgendo il primo questa volta ho la necessità lavorando sull'ecopello di utilizzare un puntino di questa colla 1 e ho già realizzato il bocciolo gutta aperta verde questa volta e avvolgo sia la base del fiorelletto allora i temporali impediscono di avere una buona visione esatto questo succede io adesso vedo una certa stabilità del video da qui non so se avete voi a questo punto qualche piccola interruzione perché ho raggiunto una bella stabilità su entrambi gli strumenti con cui sto guardando il mio lavoro quel poco che riesco a vedere intanto che lavoro e ci siamo un bocciolo è realizzato adesso realizzeremo anche il secondo anche in questo caso vedete che ho tagliato un pezzettino non serve vi dico anche la misura del filo metallico qui sono 10 centimetri circa fossero anche 11 barra 12 va bene lo stesso perché tanto poi basterà ritorcerlo al meglio sulla sulla composizione di colla ancora scusate se siamo sempre un po' sbrigative quando noi facciamo queste dimostrazioni speriamo di essere sufficientemente chiare pur dovendo un pochino correre ecco quando vi mostriamo queste cose riguardandovelo con calma poi potete anche vedere come vi dicevo ecco qua questa volta ho fatto un altro bocciolo però con tre petali e vado a rivestire sì vedo che c'è una connessione ballerina in questo momento io posso dire che non dipende da me ecco qua che ci sono temporali dappertutto ecco so che ci sono temporali che quando il cielo anche solo li minaccia le connessioni da casa sono un pochino ballerine ho avuto anch'io il problema all'inizio della diretta in questo momento da me fila tutto liscio però tanto poteriamo realizzato quindi i cinque fiori che andrò a utilizzare i due boccioli ed andiamo a questo punto a comporre per comporre avremo bisogno solo della nostra farfalla realizzata in precedenza dei nostri fiorellini già realizzati ed alcuni elementi botanici di nostro gusto gli elementi botanici saranno qualche ramo di dossinia che vi ho già mostrato qualche rametto questa bellissima botanica che ha questi rametti molto molto ricchi che ci hanno permesso di fare tutto il lavoro del fiore già con la sua fogliolina e che adesso mi aiuteranno a fare la composizione taglio un po' tutti così almeno quando abbiamo il materiale a disposizione non serviranno molto molto lunghi perfetto poi io utilizzerò anche questo qualche rametto di questo un paio di rametti di questa altra botanica che si chiama eucalipto nel mio caso userò il glicine esiste anche nella versione in giallo un paio di rametti di questa botanica qualche ci siamo qualche rametto anche di questi fiorellini che si chiamano adesso poi ve lo dico perché in questo momento mi sfugge questo è bellissimo e viene utilizzato tantissimo perché ci sono tanti fiori ed abbiamo anche questa meravigliosa foglia si presenta all'acquisto del mazzo completo come se fosse una grande ortensia vedete che ha anche questa bellissima foglia simile proprio alla foglia di ortensia che in questo caso la utilizzerò in genere essendo una foglia piuttosto grande noi la eliminiamo buonasera azzurra ma in questa occasione invece la voglio utilizzare prendo la sorellina già fatta così avrò un'impronta più o meno compositiva da scopiazzare e andiamo allora partiamo con questa foglia io vado sempre tendenzialmente a staccare gli elementi perché ci permette di lavorare in maniera più libera allora vi devo dire il nome di questa botanica che adesso ve lo dico e lei si chiama silene dovrei saperlo in questo caso è il silene bianco ma ce l'abbiamo anche di altri colori tutte queste botaniche ci permettono di fare una composizione veramente molto molto ricca allora parto con i rami più alti qua su vedete che qui c'era tutto il pastrocchio della legatura e dell'incollaggio del centro del corpo della farfalla ma adesso andremo a nascondere il tutto perché con un po' di colla e 5 minuti della vostra pazienza andremo a fare la nostra composizione colla caldo e rametto come di consueto parto con prevalentemente la prima parte botanica verde diciamo per creare un po' il tappeto a quello che sarà la nostra composizione questa grande foglia simil ortensia la posizionerò qua un bel rametto come vi dicevo di quest'altra botanica che è molto carina che è la nostra ramo di eucalitto lo divido un pochino in modo da gestire le lunghezze tra ramo e ciuffi di foglie il fatto di smontare e di costruire gradatamente vi permette di dare una compositività diversa rispetto a quello che è la staticità del ramo come si presenta nell'acquisto quindi voi vi potete sbizzarrire e vado a fare aderire il tutto allo stelo e al corpo della farfalla le ali della farfalla già mettiamo un ciuffettino di silene anche qua sotto poi andremo a posizionare i nostri fiori e a completare eventualmente il decoro se vi si ravvisa che ne manca qualche cosina il ciuffetto di erbette un altro rametto di silene qua dietro che mi darà un bel colpetto di bianco come avete visto la realizzazione della farfalla è veramente veloce immediato e come vi ho detto potreste scegliere di fare voi delle forme anche leggermente diverse cominciamo a posizionare adesso anche qualche fiore vedete che in questo caso avendo la farfalla azzurra e i fiori bianchi tematizzati con il fiorelletto prefustellato azzurro potrebbe essere perché no un fiocco di nascita ne mettiamo uno così verso l'alto ed un altro magari lo posizioniamo qui verso il basso nel momento nel momento in cui voi sull'ala o da qualche parte anche qui davanti alla composizione o pendente mettete il nome del del nuovo arrivato diventa tranquillamente un fiocco di nascita buonasera a tutti quelli che sono arrivati anche se sono arrivati un po' in ritardo tanto come vi dicevo c'è sempre la possibilità di vedere tutto in replica capisco perché poi ogni sera ognuno ha i propri impegni noi comunque siamo qua ogni mercoledì sperando di allietarvi ogni volta con delle piccole idee e con la conoscenza dei nostri materiali per poterli utilizzare al meglio o per avere degli spunti in più per poter appunto realizzare le vostre composizioni allora ne metterò un altro qua sotto questo non è ancora raffreddato aspettiamo un attimo i boccioli per affrancarli meglio andrò a ritorcere anche la base in modo che ad avere un appiglio maggiore per poterli posizionare e possiamo anche ritorcerli sul qualche rametto quindi avvicinarli ad esempio in questo caso mi prendo il rametto qua di eucalipto che vorrei far svettare da questa parte lo tengo abbastanza lungo per poterlo andare ad incollare al corpo della farfalla senza temere che mi si che rimanga troppo come dire basculante ecco e vado addirittura a legare il bocciolo a questo stelo quindi questa compositività che vi permette la nostra botanica così ricca e così articolata è sempre un buon pregio andiamo allora mi piacerebbe metterlo qui si lo infilerò qua dentro vediamo dove posso arrivare guardo la farfalla anche che è perfetto così lo leggo proprio anche al corpo della farfalla con il filo metallico che è abbastanza lungo là e al tempo stesso andremo a fissarlo con un puntino di colla caldo dove serve qua dentro eccoci qua sì ci siamo questa botanica la ritorco un po' così e affrancherò alle ali ecco qualche piccolo barbatrucco nella compositività di essere un po' elastiche nell'idea compositiva vi permette di creare delle belle composizioni con una certa anche solidità del risultato finale un rametto di questi fiori bianchi questa è la parte diciamo giocosa del lavoro che andiamo a inserire quello che ci piace io adesso sto incollando abbastanza in maniera diretta perché avevo una composizione nuova il mio consiglio è quello di studiarlo prima cioè appoggia prima di incollare appoggiate le cosine sul piano di lavoro o con uno spillino qualcosa e andate prima a sperimentare quello che andate a realizzare se vi piace dopodiché partite con l'operazione colla caldo sfosto questo fiore e vado a incollare anche quest'altro bocciolo scottandomi brutalmente mancava questa sera la bruciaturina direi che questa parte alta della nostra farfalla è completa adesso scendo un pochino da questa parte per mettere gli altri due fiori che abbiamo realizzato allora nel mio caso non ho voluto eccedere mettendo nastri nastrini fiocchetti ma tenendo al gusto personale voi potreste comunque arricchire la vostra composizione proprio a vostro piacere aggiungendo anche altri elementi più leggiadri qualche nastrino qualche fiocchetto che pende oppure come vi dicevo prima avendo la la possibilità di utilizzarlo come fiocco nascita e in generale la mia idea è di appenderlo così inclinato ecco voi potreste sia mettere il nome del bimbo qui come far pendere dei nastrini in tinta dove scrivete il nome del bimbo qualora vogliate utilizzare questa composizione in quella veste che è un suggerimento in più relativo alla possibilità di utilizzare questo tipo di vedete adesso questo lo vado ad incollare più bassino qua e poi andremo a mettere le ulteriori qualche fiorelletto o qualche foglia per completare il nostro lavoro sulla base della nostra farfalla che è animata e che contiene come sapete il filo metallico come vi ho mostrato all'inizio e come potrete vedere eventualmente riguardandolo se non l'avete visto dall'inizio voi potete semplicemente andare ad incollare il vostro decoro botanico in qualsiasi posizione di questo percorso adesso alzo qui infilo anche questi rametti perché mi va di fare così e quindi ci siamo io direi un fiorelletto bianco ancora qua sotto e dopo la nostra farfallona con i fiori bianchi e azzurri è terminata sì è una bell'idea anche perché come avete visto non è particolarmente laboriosa da realizzare l'impatto l'impatto è immediatamente del colore che a noi serve eventualmente possiamo aggiungere un fiorellino un nastrino come vi ho detto in più il nome del bimbo realizzato con le letterine di legno su un'ala insomma cercando di non pasticciare qui c'è una foglia secondo me di troppo adesso la tolgo vedete come si fa come si toglie sì ma ecco perché così vedo meglio i miei fiori mi piace di più eccola qua la nostra farfallona in questo caso azzurra è terminata per appenderla io ho semplicemente inserito all'altezza desiderata quindi voi fate le vostre prove questa è quella in versione più neutra quindi rossa con i fiori proprio estivi eccetera ho infilato del filo trasparente del nylon all'interno della trama del filo crochet quindi ho potuto legare il nylon al filo metallico nella posizione desiderata a questo punto lei si appenderà e resterà appesa con l'inclinazione che decidete voi che lei debba avere quindi la farfalla vola quindi non necessariamente deve stare dritta così a soldatino ma anzi è più carina se la appendiamo sbieca e per appenderla potreste utilizzare anche del nastro di vostro gusto sempre in tinta però a mio parere va ad interrompere nella parte alta quello che è la forma dell'alla della farfalla mentre nella parte bassa un'idea che vi dicevo può essere quella di appendere qualche nastro se ha di vostro gusto anche semplicemente con la scritta welcome oppure come nella versione che vi ho realizzato Aurora con il nome del bimbo o quello che voi desiderate per la legge del bimbo o della bimba di quello che può essere bene la nostra farfalla è terminata ho piacere che vi sia piaciuto anche questo progetto chiedo scusa per qualche piccolo inconveniente di connessione ma purtroppo è una serata un po' particolare per quanto riguarda l'energia elettrica inteso che ci sono temporali un po' dappertutto ho visto che qualcuno ha manifestato di avere problemi anche a casa propria quindi il tutorial nella sua interezza lo troverete comunque anche fissato e potete vederlo in maniera differita sulla sulla nostra pagina questa dove stiamo trasmettendo in questo momento Rencalic Idee poi verrà trasposto sul canale youtube dove troverete il cartamodello della farfalla nella misura precisa che ho utilizzato io questa sera stampando semplicemente questi due fogli a quattro il nostro canale youtube Rencalic Bologna dove trovate tutti i nostri tutorial compreso quelli dove c'è la necessità di scaricare anche il cartamodello vi ringrazio tantissimo vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un altro tutorial Rencalic vi raccomando condividete questa diretta con le vostre amicizie che la potranno vedere indifferita non importa ma che potranno vedere anche loro quello che abbiamo visto insieme noi questa sera tutto quello che avete visto di prodotti materiali eccetera li troverete ovviamente da tutti i nostri rivenditori in tutta Italia ciao a tutte buona serata e alla prossima grazie a voi dell'attenzione e della pazienza ciao ciao buona serata a tutti ciao a tutti ciao a tutti grazie a tutti